Faremo a tempo a risolvere la situazione e rimarrà lì ancora per molto tempo. Quindi date prova di maggiore iniziativa. Onorevole Chindici. Grazie Presidente. Effettivamente dal rapporto annuale del Comitato di Vigilanza di OLAF sono state evidenziate numerose criticità sull'operato di tale organismo. Mentre OLAF, nel rapporto annuale per l'anno 2014, presentato la settimana scorsa, ha evidenziato i buoni risultati dell'attività svolta sulle indagini sui casi di frode e agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ora, fermo restando l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato di Sorveglianza ed il rispetto per il ruolo istituzionale di OLAF, che sappiamo essere di fondamentale importanza nella lotta contro le frodi in danno dell'Unione Europea, non può sottacersi che sia ormai determinata una situazione di forte tensione fra i due organismi. Credo quindi occorra molta prudenza e credo quindi sia necessario fare maggiore chiarezza sulla situazione, ascoltando entrambi e gli organismi prima di prendere ogni e qualunque decisione. Grazie. Grazie. Allora iniziamo il CAC di AI a Facoltà. L'Orevole Novakov. Grazie. Grazie, signor Presidente.